Qua è lubrificato, c'è un buco, c'è un sostegno, è chiaro che è sostenuto questo cilidro però è ben lubrificato, quindi se io applico un momento procente impulsivo a questo cilidro e lascio la presa lui gira liberamente è chiaro che poi qualsiasi forma in pratica sappiamo che prima o poi la ruota si fermerà perchè la lubrificazione perfetta non è possibile però immaginate che impieghi tanto tempo a fermarsi e quindi la russità angolare cambia molto gradualmente diminuisce molto gradualmente il tempo e quindi se voi fate l'esperimento in un tempo breve è come se il cilidro in qualche modo potete almeno con un certo grado di precisione ignorare l'atleta Quindi è una idealizzazione, è libero di ruotare Allora, prendete un filo ideale e la fate così Volete che questo corpo qua, che mi sembra di aver chiamato, non ha importanza a chi è l'etichettatura è del tutto arbitrale Volete che se il corpo 1, siccome il filo è ideale, quindi cosa è ideale? è inestensibile di massa frascurabile Volete che quando il corpo 1 scende, chiaramente il corpo 2 sale ma volete che venga coinvolto il cilindro Quindi cosa dovete fare? Dovete fare in modo che quando la 1 scenda il cilindro deve ruotare per essere coinvolto Nella prima versione della macchina di Atwood il filo era libero di scorrona E quindi il cilindro di fatto non era coinvolto dalla dinamica Serviva solo a deviare il filo ma non era coinvolto Quindi in un certo senso potevamo dire che la 1 interagiva ovviamente tramite il filo Direttamente con la 2, direttamente tramite il filo Invece se io metto un chiodo qua, o diciamo che c'è attrito E quindi il filo non può più scivolare senza attrito Ma lui non scorre più senza attrito Quindi cosa vuol dire? Che se questo scende il cilindro vuoto Allora non potete più dire che la 1 interagisce con la 2 La 1 interagisce con il cilindro? La 2 interagisce con il cilindro Quindi il cilindro partecipe alla dinamica E quindi in effetti questi due pezzi di filo Perché magari io l'ho concepito originariamente L'esercizio come un filo Ha la tensione che in questo filo La tensione che in questo pezzo di filo Sono diverse Perché? Perché lui, il corpo 1 Sta interagendo col cilindro Ovviamente avrei voluto disegnare un po' meglio E' chiaro che il filo è tangente No? E' tangente Anche qua Avrei dovuto disegnare un po' meglio Tangente Quindi c'è una forza qua C'è una forza qua C'è una forza qua C'è una forza qua Che può essere pensata come L'azione e reazione La coppia di Newton Forza interna Proprio perché possiamo pensare Che la forza che la 1 sente Veduta dal filo in questo punto E' uguale alla forza che il cilindro sente Veduta dal filo in questo punto Perché questo filo è rimasto a trascurare Ma non c'è nessun motivo di credere Che questa forza sia uguale Ma non c'è nessun motivo di credere Perché è coinvolto il cilindro Quindi è giusto dire che il corpo 2 Sente questa forza Che nasce dall'interazione con il filo Il filo di massa trascurabile Quindi il cilindro sente una forza Dovuta all'interazione del filo Che è uguale e contraria A quello che c'è scritto qui Quindi questa forza e questa forza Sono uguali Ma non c'è nessun motivo di credere Perché questo sia uguale a questo Perché è coinvolto il cilindro Quindi chiamiamo questo lato del filo Il lato del corpo 1 per intenderci Il segmento A Il segmento B E cominciamo a scrivere Dobbiamo prima decidere quale sono le direzioni positive Quindi scelgo del tutto arbitrariamente Con il lancio della moneta A proposito mi è venuto in mente che L'altro giorno avevo impostato una frase Parlando di un famoso professore di statistica Poi ho fatto la mia Sconveniente affermazione riguardo a Che spero che venga delettato Qual era la cosa? Questo qua era cresciuto nelle strade Famiglio povero da piccolo Giocava con i coltelli Le gang E lui per guadagnarsi qualche soldo Faceva scommesse Il lancio di dadi e roba del genere Poi si è appassionato un po' di problematiche Di variabili random Ma quando era adolescente Era talmente bravo a lanciare le monetine Che 8 volte su 10 Riusciva a far venire fuori testo-croce Quindi riusciva a calibrare bene il suo pollice E a fare dei lanci Quindi lui parava No? Interessante questa figura Allora Dobbiamo decidere la direzione positiva Decido che scendere della 1 sia positivo Quindi questa è una scelta arbitraria A questo punto causare la direzione positiva Per la 2 non è più arbitraria Se la 1 scende la 2 deve salire Un paio di persone nell'altro gruppo Questo non riuscivano a capire E durante la pause Ben due pause Continuavano il suo Io però non lo capisco Quindi se c'è qualcuno che non riesce bene A ferrare questo ragionamento Si faccia avanti durante la pausa Cercherò di convincere Non è semplice Ripeto Questi esercizi che sto facendo Dal punto di vista matematico Sono delle puttanate La difficoltà secondo me È riuscire un po' a capire con la pancia Cosa sta succedendo Cos'è sta storia della direzione positiva Di come queste due sono correlate Addirittura sono legate assieme E di quindi scrivere in maniera corretta L'equazione di Newton con dei segni Di algebraici appropriati E quella è la parte difficile Una volta che uno le ha scritte Poi i passaggi sono stupidi Ma se uno sbaglia a scrivere i passaggi Anche se siete bravi a fare passaggi Anche se tirerete fuori un risultato sbagliato Dobbiamo capire che adesso Prima di tutto scriviamo l'equazione di questi due L'equazione di questo e l'equazione di questo Sono equazioni traslazionali Quindi il corpo 1 Schriveremo che avrà una sua accelerazione L'accelerazione verso il basso del corpo 1 E' uguale all'accelerazione verso l'alto del corpo 2 Quindi non metterò i pedici Accelerazione 1 e accelerazione 2 Quali sono le forze che agiscono sulla particella 1? Si lo so, ma loro quello stanno dicendosi Qual è il problema? Perchè parlate? State in silenzio Questa freccia qua lo scriverò meno TA Perchè la direzione verso il basso Questa freccia qua lo scriverò più TA Questa freccia qua lo scriverò più TB Questa freccia qua lo scriverò meno TB Questi segni algebrici vengono dalla direzione positiva Una volta che avete chiaro qual è la direzione Queste frecce sono concordi o discordi Quindi avranno i loro segni L'equazione del moto della particella 2 Vedete che la forza peso adesso questa volta E' nella direzione negativa Invece TB verso l'anto Adesso dovete scrivere l'equazione del terzo corpo Che è coinvolto in questo problema Il cilindro Ma l'equazione del cilindro deve essere molto chiaro Che è perpendicolare alla lavagna L'equazione che sto per scrivere Che descrive il moto attorno a questo basso qui Questo qua cos'è? La derivata seconda di x Dove x è questa direzione Quindi lo spostamento del corpo A x a funzione del tempo La derivata prima sarà la velocità La derivata seconda è quella che è scritta qua S della situazione La coordinata x di questo qui è rivolta verso l'alto La coordinata posizionale di questo non è una x È una teta, è un angolo D'accordo? E quindi è un angolo che rappresenta la stazione attorno all'asse Quindi io devo scrivere i teta due punti Uguale al tau Al momento torcente che sta agendo Che sta agendo sul veneto cilindro Allora come vedete ci sono due momenti torcenti C'è uno che nasce dalla tensione del segmento di filo A E c'è uno che nasce dalla tensione del segmento B Quindi scriviamo per il momento tau A e tau B Ok? Chi è tau A? Tau A è il momento torcente che nasce da questa forza qua E noi valutiamo i momenti torcenti E il momento della quantità di moto E il momento di inerzia rispetto a questo punto qua Rispetto a quest'asse nel caso Un momento di inerzia E i momenti della quantità di moto E i momenti torcenti li valutiamo rispetto a questo punto qui Quindi questo diventa la vostra origine se volete Il polo D'accordo? E quindi questa forza è applicata qua Tutta l'applicazione di T A in questo punto Il momento torcente quindi di T A È perpendicolare alla lavagna E vi chiedo è entrante o uscente? Quindi voi cosa dovete fare? Cos'è un momento torcente? È il prodotto vettore tra il vettore posizione Che va dall'origine oppure dal polo Dal polo al punto di applicazione Il prodotto vettore è la forza che è applicata in quel punto Quindi voi fate vettore R, vettore F E il pollice sta entrando nella lavagna Quindi T A entra Questo entra E T B cosa fa? T B è il momento torcente di questa forza Dovete fare il prodotto vettore tra il vettore spostante Dal polo dall'origine al punto di applicazione della forza Moltiplicato vettorialmente per il vettore della forza E vedete che questo è il vettore R, il vettore F E il mio pollice esce Quindi T B esce Qual è il modulo di T A? Mettiamola così Il modulo dovresti sapere dal prodotto vettore È il modulo del vettore spostamento Che va dal polo al punto di applicazione Per il modulo della forza Per il seno dell'angolo Ma l'angolo perché è 90 gradi? Perché questo è un cerchio Perché questo vettore qui Siccome abbiamo messo in centro il polo L'origine è al centro del cerchio E siccome questa linea d'azione della forza È tangente al cerchio Allora il vettore che va dall'origine Al punto di applicazione è un diametro E sapete che il diametro è sempre Per particolare alla tangente di un cerchio I cerchi sono fatti così, no? E che cazzo Un cerchio è questo E quindi Sì no? È sempre 90 gradi Quindi abbiamo 1 E quindi vedete Che il Tau della tensione A Nel punto di applicazione qui È semplicemente uguale a RTA Molto semplicemente Però Tau A sta entrando Quindi Tau A entra Giusto? E quindi che segno ha? Rispetto a quello che io ho chiamato La direzione positiva Allora il corpo 1 per positivo scende Il corpo 2 per positivo sale E quindi la direzione positiva per il cilindro Sta girando in senso orario Quindi voi mettete le vostre dita Per individuare la direzione di rotazione E il pollice vi da il verso della velocità angolare Se volete Quindi lui E quindi la direzione positiva Che eredita il cilindro Dal fatto di aver deciso Tutto arbitrariamente che la direzione positiva È entrante Quindi questo entra col segno positivo E questo entra col segno negativo E quindi scriviamo qua ArTA-RTB Ok? Che può ovviamente essere scritto Vabbè lasciamolo così Così è chiaro Deve essere molto chiaro A questo punto qui Adesso usiamo due cose Il più importante è questo passaggio qua Come vi ho detto Se questo cilindro Si dovesse abbassare Se questo corpo 1 Dovesse abbassarsi Di questa distanza qua Allora questo chiodo Si è spostato Di un arco di cerchio Che deve essere proprio uguale A questo tratto Quindi ovviamente Il disegno è più o meno Solo anticipativo Ma dovete immaginare Che il chiodo si sposterà Quando il corpo 1 Passa da questa posizione X1 Alla posizione X2 Questa distanza qua E' uguale alla distanza Di cui questo punto Si è spostato Ok? Questo arco Questo arco di cerchio Che lunghezza ha? Ha proprio lunghezza Lunghezza Arco di cerchio È proprio uguale a x O delta x Come volete chiamarlo Questo è delta x Di quanto si è spostato questo? Deve essere chiaro quello Perché? Perché il filo è inestensibile È ovvio Se fosse elastico Questo potrebbe anche Spostarsi di un metro E proprio perché è elastico Questo magari si sposta Di molto meno Ma proprio perché è inestensibile Ok? Ma siccome il parametro posizionale Del moto rotazionale È un angolo Qual è l'angolo associato A questo arco di cerchio? Questo angolo qui Questa variazione angolare L'ho chiamato questo delta x Chiamiamo questo delta teta se volete Qual è delta teta? Allora delta teta Siccome c'è questo legame Che lega gli archi di cerchio Al raggio del cerchio Alla variazione angolare in questo caso Ok? E questa è la relazione Quindi delta teta Di quanto si è spostato angolarmente Il cilindro È uguale a In questo caso A delta x diviso r Perché questo è delta x, no? D'accordo? Se il corpo 1 scende di delta x Di che angolo ha ruotato il cilindro? Dipende dal raggio del cilindro Dove fare? Dipende dal raggio del cilindro Se avete un cilindro molto grande Qual è l'effetto davvero Un cilindro molto grande? Che quando voi abbassate il corpo 1 Che so di 10 cm Se il cilindro è molto grande L'angolo è piccolo Se invece il cilindro è piccolo La rotazione angolare è molto più grande Pensateci a un atomo Vi faccio subito un fumetto Che tante volte ne parlo dopo Però già adesso può essere utile Come sono fatti i trattori? I trattori normalmente sono fatti Con una grande ruota dietro E una piccola ruota davanti Hai visto dei trattori? E qua c'è la cabina D'accordo? Allora Immaginate che queste due ruote Questo concetto lo parleremo oggi E' un'anticipazione A me piace fare piccola anticipazione Poi scendere in dettaglio Supponete che queste due ruote Facciano il loro mestiere Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che le ruote rotolano Senza strisciare Ok? Rotola senza strisciare Cosa vuol dire? Che se qua ci fosse ghiaccio La ruota potrebbe girare Ma di fatto E il trattore non va da sola parte Voi volete invece che quando Il ruota giri il trattore avanzi Che tutte e due ruote faccia la stessa cosa Allora immaginate che il trattore Avanzi una certa distanza Lui si sposta Quale ruota gira di più? La piccola o la grande? La piccola Da bene? Da bene? Quindi capite Che da questa semplice considerazione C'è un legame tra questa Accelerazione angolare E l'accelerazione del blocco 1 E qual è il legame? Che l'accelerazione angolare Che appare qui È uguale La rivedete qui A x due punti Diviso R Cioè quello che io ho chiamato A diviso R Quindi questo signore qui Io la posso descrivere in questo modo E A diviso R Uguale a RTA-TV Questo passaggio è fondamentale E da dove nasce? Dal fatto che il filo è inchiodato Nel cilindro Che corrisponde se volete Nello scenario del trattore Al fatto che non c'è ghiaccio sulla strada C'è un'analogia E' più che solo un'analogia C'è una corrispondenza veramente Quasi perfetta Tra l'idea di un filo Che scivoli senza trito su un cilindro E una ruota che scivoli Senza alcuna costrizione da parte della strada Perché la strada è inchiacciata Perché c'è dell'olio Eh? Di nuovo pensate a Questa è la vostra automobile Questa è la vostra automobile Ma è il coefficiente aerodinamico Orribile E qua c'è un albero Eh? Magari c'è una curva E abbiamo un artilineo E voi state avanzando Vedete che state per andare a sbattere sull'albero Cosa fate? Toccate i freni, no? Ma se la strada è ghiacciata serve qualcosa? Cosa fanno i freni? Aguantano la ruota La ruota non gira più rispetto all'automobile La ruota non sta più girando Eppure la macchina avanza Potreste in un momento di disperazione In una specie di lucidità disperata Ingranare l'elettromarcia Piggiare il gas Le ruote rispetto all'automobile Addirittura andare in direzione opposta Però se la strada è ghiacciata La macchina continua a avanzare Quindi, le ruote per fare il loro dovere Serve che ci sia un legame molto preciso Tra quanto la macchina avanza E quanto gira la ruota Perché se c'è ghiaccio Quel legame non c'è Le ruote possono addirittura essere ferme Non ruotare per niente La macchina avanza Potrebbero girare in senso opposto E la macchina potrebbe avanzare Quindi, con il ghiaccio Quel legame non c'è più Quindi, deve essere chiaro Che se il filo scorre con il lubrificato Non c'è nessun legame Tra quanto il corpo 1 scende E quanto gira il cilindro Il cilindro potrebbe essere bloccato Come se voi frenate Potrebbe anche essere fatto girare Di nessun opposto E il filo se ne sbatte La macchina se ne sbatte E continua ad avanzare E solo quando io voglio imporre Un legame tra il movimento del filo E il movimento del cilindro Come lo faccio con il chiodo O con l'attrito Come faccio a garantire Che ci sia un legame Tra quanto avanza la macchina E quanto gira la ruota Ci deve essere l'attrito La ruota deve essere In qualche modo Legato alla strada E qua è appunto A coluncchio modo Va bene Meditate su questo Poi ripeto La storia delle ruote Che rotolano senza strisciare Sarà sicuramente Argomento di forse oggi stesso Perché abbiamo 4 ruote Fin dove sono arrivato Qua Questo qui Questa espressione qui Questo passaggio C'è fisica qua Ed è espressa Matematicamente Con questo fatto Qual è la fisica? La fisica è Che il filo È giudato Al cilindro E come si impone Questa ipotesi Matematicamente Ecco cosa si impone Si impone Che di quanto ruota il cilindro Dipende in questo modo Da quanto si è spostato Verticamente il corpo E questo si traduce in questo Quindi questa è l'ipotesi Che il filo È inchiodato Detto in maniera un po' meglio Che il filo non scivola Rispetto alla ruota Se il filo avanza È perché la ruota gira Detto in maniera simmetrica La ruota gira Perché il filo si è spostato Ok Ok Questo è il passaggio Più delicato Poi c'è un altro passaggio Che sfruttiamo È quello di dire È un cilindro in fondo È una ruota No È un disco Allora Noi possiamo immaginare Tanti tipi di cilindri Tra l'altro questo oggetto Penso che i muratori Lo chiamino Carrucola No? Potete immaginare Tanti tipi di carrucole Potete avere una carrucola Dove tutta la massa È sul bordo Certo Per dare velocità Meccanica Ci saranno dei raggi Ma immaginate Che i raggi Hanno una massa trascurabile Rispetto a tutta questa massa Messa sul bordo Come la ruota della bicicletta Ma potete anche avere carrucole Che sono magari Un materiale omogeneo Che semplicemente è stato ritagliato In forma cilibrida Quindi questa è una carrucola Vuota Una carrucola piena E potreste avere carrucole Anche ibride Magari non so Immaginate Una cosa che è così Qua avete la zona centrale Con i raggi E questo è omogeneo Ok? Come una specie di ciambella Ok? Quali sono i momenti di inerzia Di questi tre tipi Di possibili cilindri? E' chiaro che Rispetto all'asse passante per il centro Perché quello è l'asse che ci interessa A questo qua Sapete cos'è? La massa della ruota Se R è il raggio Questo è così Quindi il momento di inerzia è così Il momento di inerzia di questo L'avete calcolato E siete responsabili All'orale è questo qui Quale sarà il momento di inerzia di questo? Allora chiamate R1 il raggio interno R2 il raggio esterno Quale sarà il momento di inerzia? Quale sarà il momento di inerzia? Quale sarà il raggio? Pensateci un attimo Non ve lo dico adesso Ma se per espulsare pensateci Cosa fareste? E' il momento di inerzia di una ruota piena Di raggio R2 Meno Una ruota piena di raggio R1 Semplice no? Pensateci Dove sarà la testa Il messaggio qual'è? Che i momenti di inerzia di cilindri Per le ruote Voi meccanici La scriveremo Rispetto ad assi passati Per il centro si intende Eh? Rispetto ad assi passati Per il centro Sarà la massa della ruota O del cilindro Il raggio al quadrato Moltiplicato per un numero puro Che in qualche modo Ci dice com'è fatto Questo numero puro In questo caso vale 1 Qua vale 1 mezzo Qua valrà qualcosa Calcolatelo E a un certo momento Questo numerino La indichiamo con K Qua vale 1 Qua vale 1 mezzo Eh? Va bene? D'accordo? Quindi non impegniamoci Nel tipo di carruco A quel momento Quindi usiamo questa espressione qua E la mettiamo qui Ok? Quindi abbiamo tre equazioni Questa è la carcello Anzi Ma si dai Questa, questa e questa Va bene? Tre equazioni La cosa importante a notare Che queste tre equazioni Non possono essere banalmente Sommate assieme Perchè? Qualcuno? Perchè non possono essere Sommate assieme? Sono due modi diversi Eh? Sono due modi diversi Due? Molti diversi No? Matematicamente Oddio E fisicamente Perchè stiamo facendo fisica Le prime due equazioni Che dimensioni hanno? Sono forze E l'ultima? È un momento torcente Non posso essere sommate assieme Non potete sommare una forza A un momento torcente Questo è il motivo Sono dimensioni diverse Prima cosa a notare Allora facciamo subito una cosa Della terza equazione Moltiplichiamo intanto tutto per R Che sembra quasi peggiorare la situazione No? Addirittura se moltiplico per R Ho un'equazione che ha dimensioni Di una forza per una lunghezza al quadrato Però è chiaro che Una volta che ho fatto così Una volta che ho fatto così Posso ottenere un'altra equazione Perché vedete che R quadro pari qua R quadro pari qua E posso ottenere questa equazione qui E questa sì Ha le dimensioni di una forza Notate questa terza equazione Questa ha le dimensioni di queste e queste Quindi questa potrà essere sommata a quella Notate un'altra cosa Come la R quadro è sparita dall'equazione E' interessante questo fatto Quindi sembra che non dipenda Dalle dimensioni del cilindro Dipende dalla massa? Sì Dipende da K Che ci dice come è fatto il cilindro Ma non dipende dal raggio del cilindro Il raggio del cilindro Sparisce dall'equazione E dovete vedere perché è sparito Perché ho scritto il momento di inerzia in questo modo E quindi sparisce questo Quindi cancello avvicino a questo Per poter manipolare il sistema Bene? Sto per cancellare questo L'ho già fatto C'è la linea Adesso sto per cancellare questo E poi sposterò quella su Sono tre equazioni che hanno le stesse dimensioni E posso manipolarle senza nessun problema Per esempio intanto sono tre equazioni con quante incognite? Con tre perché non conosco l'accelerazione Questa qua rappresenta Attenzione Questa è l'accelerazione del corpo 1 Questa è l'accelerazione del corpo 2 E cioè l'accelerazione del corpo 1 La stessa A Non conosco A Non conosco TA E non conosco TB Tre incognite E quindi di nuovo Come ho già avvertito L'esercizio si ritiene risolto Quando dite tutte e tre le grandezze La più facile da calcolare è l'accelerazione Perché uno lo ottiene semplicemente Sommando assieme le tre equazioni Quindi vedete che qua ho M1 Più M2 Più K M grande M grande è la massa del cilindro E K in qualche modo descrive come è fatto E qua adesso vedete che c'è questa cancellazione Molto suggestiva 2,2 E rimane M1 M2 G E quindi la prima incognita L'abbiamo determinato Ed è una bella formula questa Lascio a voi calcolare le tensioni Quindi l'esercizio è completo quando avete TA e TB Ma guardate questo perché merita Notate come l'accelerazione A Come nella versione di Atwood Quando il filo era libero di scorrere Analogo a una ruota che si trova Su una strada ghiacciata Quindi veramente fate tesoro di questa analogia Un filo che è libero di scorrere Equivale a una ruota che scivola Invece in questo esercizio il filo non è libero di scorrere E quindi coinvolge il cilindro E la variazione dell'esercizio appare qua La differenza tra questo esercizio Con il filo inchiodato E quello del filo che è libero di scorrere È la presenza di questo pezzo del denominatore Analogamente se M1 ha una massa maggiore di M2 Allora l'accelerazione della particella 1 è positiva Cosa vuol dire che quando uno scende La A è positiva interpretata dal punto di vista della particella 2 Una A positiva vuol dire che sale Una A positiva interpretata dal punto del cilindro E cosa? Un'accelerazione angolare Positiva Una A positiva vuol dire che questa è positiva Vuol dire che l'accelerazione angolare è positiva Cosa vuol dire positiva l'accelerazione angolare? Vuol dire che l'accelerazione angolare è entrante nella lavagna Quindi per una certa posizione angolare L'angolo aumenterà Il ratio con cui aumenta Cioè la velocità angolare Aumenterà Quindi andrà sempre più In senso orario A una velocità angolare crescente Ecco il pollice entrante D'accordo? Quindi quando M1 e M2 sono uguali Invece l'accelerazione è zero Cosa vuol dire? Che se per caso il cos 1 sta già scendendo A una certa velocità Continuerà con quella velocità Non accelera Se questo sta salendo Salirà con la stessa velocità Questo scende con 10 cm al secondo Questo salirà a 10 cm al secondo Con la velocità costante E se questo sta girando Mi capite? Questo avrà un'accelerazione angolare costante Una velocità angolare costante E quale sarà la velocità angolare? La velocità angolare del cilindro E' uguale alla velocità Cioè chiamiamolo x punto Diviso R Quindi se questo è costante Questo è costante Se questo invece Cambia del tempo Questo cambia del tempo Il rato con cui questo cambia del tempo Cos'è? Si chiama A Il rato con cui questo cambia del tempo Come si chiama? Accelerazione angolare Indicata certe volte con alfa Quando questo invece è indicato economica Vi capite? Spero se state studiando Su cose semplici Ma guardate C'è questo signore qua giù Ok? Quindi vedete che voi potete influenzare L'accelerazione Modificando la carucola Facendo cosa? Cambiando o la sua massa O cambiando come è fatto Va bene? A parità di massa per esempio Guardate qua Ecco due carrucole Le ho fatte anche dello stesso raggio Le ho fatte anche dello stesso raggio Anche se il raggio non importa Vedete che il raggio Non entra nella risposta Il raggio non c'è un fico secco Ma tanto per fissare le idee Qua ho fatto già il disegno Hanno lo stesso raggio Immaginate che abbiano la stessa massa Quale carrucola fa sì che l'accelerazione sia la più grande? Vedete dove K è nel denominatore Quindi avere una K piccola Vorrà dire che il denominatore è più piccolo Avere una K piccola vuol dire che il denominatore è più piccolo E quindi avere una denominatore più piccolo Vuol dire che l'accelerazione è maggiore Chi è quello che ha la K più piccola? La ruota piena Questa invece ha una K più grande E quindi ha l'accelerazione minore Quindi finché le ruote hanno lo stesso raggio Uno può dire ma per forza Questo qua comporta un'accelerazione più piccola Perché ha un momento di energia più piccolo Un oggetto che ha un momento di energia più piccolo E' più facile farlo accelerare Non vi pare? Quindi è ovvio che questo Se hanno lo stesso raggio E' ovvio che questo ha un momento di energia più piccolo E' scritto qui Quindi questo è più facile farlo accelerare Questo ha un momento di energia più grande Quindi è più difficile farlo accelerare Quindi una carrucola che è più facile farlo girare Che comporterà quindi un'accelerazione maggiore E' questa qua no? Però la formula ci dice qualcosa in più Che non dipende dal raggio E quindi questo sarebbe vero Anche se Anche se la carrucola fosse molto piccola A parte ovviamente avere la stessa massa Questa ha un'accelerazione comunque più importante Perché la formula non dipende dal raggio Quindi non fatevi ingannare dalla dimensione Però ovvio che questi avendo raggi diversi Questo qua ha un momento di energia più piccolo di questo Comunque, guardate con molta attenzione al formula Una curiosità Come sono fatte le carrucola? Cioè, non voglio entrare nel merito Voglio porvi un quesito Che ho fatto all'altro gruppo Che credo che meriti Il ridisegno dello stesso raggio Perché non voglio confondervi troppo Due carrucola hanno la stessa massa È chiaro che Ok, abbiamo capito che possiamo Cambiare K, possiamo cambiare M Quindi vedete se la massa della carrucola è piccola L'accelerazione sarà grande E se la massa della carrucola è grande L'accelerazione sarà piccola Quindi se voi dovete tirare su dei mattoni Quale carrucola cerchereste di usare? Userei una, se voglio far meno fatica Userei una carrucola di piccola massa E con un piccolo valore di K Perché riesco ad accelerarlo facilmente Cioè non devo lottare contro la carrucola Devo solo lottare e tirare su il mattone Ma non a cercare di far girare la carrucola Non vi pare? Però non è anche un po' pericoloso? Perché se per caso mi sfugge la presa La carrucola non contribuisce a rallentare il fenomeno Se ho una carrucola leggera con un capo piccolo Quello accelera facilmente e quindi mi cade in testa velocemente Se invece ho una carrucola massiccia Con un grande valore di K e perdo la presa La carrucola accelera ma più a fatica Quindi in qualche modo tutto cade un po' all'alentatore Quindi forse avere una carrucola massiccia Più faticoso ma anche forse un po' più sicuro In caso di incidenti Quindi io non sono pratico dei cantieri Quindi riesco a immaginare che uno che vuole Far costruire velocemente un edificio Userà carrucole pericolose In caso di incidenti tutto cade con l'accelerazione Perché se tutto rotato io sto sollevando qua Un sacco di mattoni O mi manca la presa E qua c'è il mio compagno che proprio in quel momento Sta mangiando un panino Lui che si è messo sotto Se mi manca la presa Questo va giù Se questo non avesse attrito Questo andrebbe giù con l'accelerazione G Giusto? Ma se questo è inchiodato Non va giù con G Perché è coinvolto anche un momento di inerza Dalla carrucola Quindi lui forse ha un Ci siamo capiti Credo Dove sono? Perché non ho l'orologio Meno 10? Vediamo se in questi 10 minuti Mi riesco a impostare velocemente questa qua Casomai lo finirò nella seconda ora Allora Per cortesia Allora voglio disegnare un cilindro Il filo attorno al quale è avvolto un filo Per come uno spesso di yo-yo Ok? Quindi Immaginate che il filo è attorno E voglio che il filo sia inchiodato Se non c'è attrito tra il filo e il cilindro Voi potete svolgere il filo senza alcuna fatica Invece io voglio che il filo non possa essere sfilato senza fatica Voglio addirittura inchiodarlo Se volete pensate che ci sia trifer Ma il messaggio è forte Io voglio che questo cilindro verrà giù nella misura in cui ruota D'accordo? Se lui scende Se scende di una certa quantità Pensate al centro di massa Se lui scende di una certa quantità E' perchè lo yo-yo ha fatto un giro D'accordo? Perchè? Perchè il filo è inchiodato alla calucola Quindi l'unico modo per farlo avanzare è di farlo svolgere Perchè? 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 Perchè?